E comunque al quindicesimo minuto del video è ora di dire che siamo to fifa Non sono io guardo il computer capito e c'è i suggerimenti e mi dicono Non è rigore mai È rigorissimo Marzano sul dischetto C'è tensione perché i gesti dell'allenatore indicano il tiratore è verso la destra del campo Chi sarà? È incredibile come Mr. Schultz si prende questa responsabilità Ma c'è tensione in campo quando Lomino diverte Montella Marzano Questo qua le c'ho la tutte Te capi o no? La parola con la T Sali Gli olimpi... Che cazzo era stai vu? Marzano Oh tu! Che azione! Che azione! Tutti insieme! Sali la... Sali la... Sali la... Chiudi freddure.com Chiudi freddure.com Sali la... Sali la... Tanto ormai sta andando avanti da sola Come sta andando la tua rank ed informa i miei fan Stai per vincere Basta destra Questa la dedico a tutti i fan di Marza Quando un uomo non fa l'uomo delle veci è lì che arriva la neve con l'uomo in veci Questa la diceva Martin Luther King Mi ha detto che al prossimo gli facevi il ban a Yoman Ah sì Io comunque l'avevo sentito da un famoso pittore greco Ricordate sempre la maionese va sopra il ketchup Fate ridere a ste cose Sotto sotto Gianlu Gianlu cerca di far fare il gol della bandiera agli avversari M***a poverini dai No no Gianlu There will be no white flag above my De te ci riesce Gianluca ancora un punto per lui Non è rispettato l'operazione palla lontana There was the time Devo provare a calciare No Molly ti prego sei troppo intonato il copyright sul canale dai I used to fuck your eyes Che cazzo In a happy home Questo era il cazzo che si è scopetta Loki in Swedish House Mafia style Esatto Dicc that fuck your eyes Dicc that fuck your eyes Dicc that fuck your eyes Rigore Rigore No mentre ti vedo così devi guardare Ok Se no non ti puoi spippettare Ed eccolo Stiamo perdendo E ora si dai che calciato da centrocampo Se l'arbitro non fiska non è problema mio Io sono E' l'arbitro che mi cade a fischiare Non è problema Perché sei giorni che ti spacci per quegli altri nelle intro Esatto Dai Oh fallo E' fallo no E comunque questo video è finito Se vi è piaciuto Lasciate un like Scrivete nei commenti Quanto è disagiante stare in call con Gianluca E invece si perché Yomana è un figlio di puttana Unito che si è mutato Fazza è una troia E tua madre è una puttana Ciao Grazie